Questo spazio, chiamato RIVAGE, consiste nell'estimo del TOM, che diamo una possibilità anche di esistere in questa estate. Facciamo serate, concerti, feste, anche spettacoli per bambini, intrattenimento ai bambini. Ieri sera abbiamo avuto il domatore di squali, che è stato uno spettacolo molto bello, per bambini e anche per adulti. Comunque anche quest'anno daremo spazio a ArciFesta dal 16-17 luglio fino al 4 agosto. Questa sera abbiamo organizzato insieme a Luca Zanardi questa sfilata di moda. In queste sere è possibile socializzare, stare in compagnia con della buona musica. Vi aspettiamo qui, ogni giovedì alla domenica. Venite e vi aspettiamo. Una sfilata di moda organizzata con 14 modelle volontarie. Abbiamo Oxel Store di Piazza Marconi 23 e Alchimia Makeup di Via 20 Settembre 21, che grazie a loro siamo riusciti a organizzare questa bellissima serata dove mettiamo in mostra tutti i prodotti della cooperativa sociale La Cosa, lavoro, comunicazione e salute. Come vedete questi due nomi sono molto provocatori per la realtà sociale che abbiamo sposato. Realtà sociale che ci vede coinvolgere nel nostro lavoro quotidiano i ragazzi che escono dal servizio di psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ospedaliera Carlo Poma e noi proviamo a riconvolgerli nella società facendoli lavorare. I vestiti sono creati dalle nostre splendide sarte dirette da Manuela, che è la vicepresidente a cui devo dire un immenso grazie per sopportarmi in tutti questi eventi. Sono abiti completamente riciclati, quindi cerchiamo di coinvolgere la clientela, il pubblico, anche la sensibilizzazione su questo tema. Ad esempio questa sera abbiamo tutti gli abiti donati dall'Arci tramite le bandiere e dalla cooperativa Ce la faremo di Goito, che è un mercato dell'usato e non, che ci ha donato tutti gli accessori su cui noi abbiamo potuto lavorare e quindi creare questi abiti. Tutti gli abiti, tutte le borse in vendita a Depressionist Fashion, Galleria Apollo 52, Corso Umberto I, 52, Galleria Apollo.